buongiorno buongiorno dal dottor claudio sarecino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscolo oggi ragazzi parleremo di energia è possibile avere energia a comando ogni singolo momento a nostra richiesta senza dare conto a niente a nessuno la risposta è sì 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 30.000 volte sì avere veramente come si può dire energia voglia di fare tutta naturale potente sicura senza assumere sostanze dall'esterno è possibile con il potere della tua mente e con l'ipnosi di cs vera e professionale anche con un solo audio mp3 di cs al titolo ego e entusiasmo un capolavoro unico al mondo ragazzi che tu puoi scaricarti liberamente comodamente in completo anonimato sul sito della mia associazione iprolegi associati losagers beverly hills www.iprolegiassociati.com un capolavoro di due grandi dell'arte ipnotica vera e professionale la dottoressa rina brunini il professor dottore michel angel grai i miei mentori i miei maestri i miei soci i miei associati i miei amici per l'eternità che mi hanno cambiato la vita da così a così e veramente camminerai camminerai sulle acque camminerai sulle acque senza se e senza ma nel 2008 ho salvato mio padre grazie all'ipnosi vera e professionale centinaia centinaia di persone nel mondo devi soltanto seguire le istruzioni molto facile la prova di un nonno la prova di un pigro alla prova di un idiota e la tua vita cambierà ok non devi stare lì a guardare l'orologio anzi l'orologio il tempo il calendario butta tutto nel cestino della spazzatura e tu concentrati 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 sulle cose positive e su ciò che dice o dico nelle istruzioni ripeto ancora una volta molto semplice alla prova di un nonno alla prova di un pigro alla prova di un idiota e tu puoi canalizzare questa energia che ti dirà ti ti gonfierà il petto ti sentirai veramente come un dio in ogni cosa che farai ok naturalmente se tu hai le gomme sgonfie o cammini con il freno a mano tirata e una bassa stima di te stesso di te stesso sei timido chi più ne ha più ne metta fidati anche con un solo audio mp3 dices dal titolo ego entusiasmo tu puoi cambiare la tua vita dal buio alla luce senza ma e senza se ecco cosa succede ed è tutta farina della tua mente potente del tuo subcosciente del tuo pilota automatico che che ne dica qualche sicuro ok e senza nessunissimo effetto collaterale perché le suggestioni di cs il metodo di cs il dottore claudio saracino è stato concepito per essere un metodo unico al mondo diverso da l'ipnosi conformista e commerciale per non parlare dell'ipnosi fuffa l'ipnosi faura l'ipnosi da spettacolo perché perché è fondamentale nel mondo dell'ipnosi ragionare con le suggestioni le parole che sono semplici naturali potenti create ad arte create ad hoc che possono veramente cambiare il destino di una persona grazie al proprio potere perché di fatto non esiste il destino esiste il subcosciente il pilota automatico l'88 per cento della tua mente che ti può far cambiare sorte se solo se seguirai la lettera le istruzioni alla prova di un nonno alla prova di un pigro alla prova di un idiota se poi non vuoi scaricarti quest'audio potentissimo naturalissimo con suggestioni di cs ad hoc ad arte ego entusiasmo tu puoi anche andare presso un professionista dell'ipnosi vera professionale della tua zona perché il sottoscritto al momento sospeso le sessioni online di ipnosi dicesse vera e professionale per un discorso di tempo per motivi di tempo e di impegni poi se le riprendo domani perché no possiamo pensarci sopra e c'è gente che si è scaricata eco entusiasmo e anche altri audi mp3 dicesse una cosa non esclude l'altra e tu affronti lo stesso problema da più angolazione da più angolature da più incastri e liberi il tuo subconscio dal passato negativo che sta impedendo di vivere felici in salute e con ottime relazioni sociali fammi tutte le domande del caso ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino iscriviti per favore a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cs del dottor claudio saracino e facer condividi con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita come è successo a me a tantissima gente poi se clicchi sulla campanella guaggiù riceverai sempre le novità le notifiche che ti avvertiranno che qualcosa ho da dire che magari sarà presa da te come ispirazione per afferrare cose che fino ad oggi non hai afferrato neanche se hai fatto altri corsi di ipnosi nel mondo ok in qualsiasi parte del mondo in cui risiedi perché il metodo di cs l'ipnosi di cs vera professionale che proviene direttamente da los angeles baby reels è un tipo di ipnosi unico al mondo ed il sottoscritto oltre ad essere un professionista dell'ipnosi vera professionale da più di 12 anni dal 2008 al 2020 bene il sottoscritto è un mentore un mentore perché mi ipnotizzo h24 dal 2008 ad oggi sono l'unico caso al mondo e posso dirti dove mettere il piede oltre al fatto di aver aiutato centinaia e centinaia di persone nel mondo online e dal vivo con l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscola come al solito non credere neanche ad una parola del sottoscritto devi soltanto fare azione agire e meravigliarti e soprattutto seguire la lettera le istruzioni molto facili la prova di un nonno alla prova di un pigro alla prova di un idiota e magari se le leggi 5 6 10 volte afferri dei passaggi che non avevi afferrato più rispetti alla lettera le istruzioni molto facili alla prova di un nonno alla prova di un pigro alla prova di un idiota più prima o poi scatterà quella molla e tu cambierai la tua sorte e la tua vita fidati gutta cavat lapidem la goccia cava erode scriciola la roccia durissima d'accordo ecco cosa ho scoperto in 12 anni e seguimi perché tu non perderai il tuo tempo prezioso nel tempo del tuo caro della tua cara che magari non vogliono essere aiutati non possono essere aiutati ce ne sono tanti casi se segui la lettera le istruzioni devi continuare perseverare lascia stare chi ti dice non è possibile se io non voglio non cambio tutte sciocchezze l'ipnosi non parla la coscienza quella che dice solo io posso decidere se voglio non voglio no parla al subconscio e c'è il fatto che una persona cambi direzione significa tantissimo tantissimo perché ti chiederà aiuto e lì può fare tutto quello che desideri anche portando a qualche professionista l'ipnosi vera e professionale ragazzi il sottoscritto sta bene per le prossime 37 vita grazie a dio sono partito da studente lavoratore senza non avere in tasca e adesso ho tantissime attività nel mondo e la mia mission è quella di testimoniare di divulgare il metodo di css vera e professionale soprattutto diffondere le mie esperienze personali diretta in diretta a te che mi ascolti che mi vedi che mi segui hanno altri interessi gli audio e tutti i corti che eventualmente farò sono gestiti dell'associazione i proletti associati los angeles bever hills a cui ho ceduto i diritti d'autore ok per cui a te l'ardua sentenza e ti prego di agire prima che sia troppo tardi perché tutto ciò che stai vivendo l'ho vissuto prima io di te e poi me ne sono uscito e tutti quelli che mi circondevano anche guru bla bla mi dicevano non è possibile devi convivere devi accettare ereditario bla 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 io avevo mal di testa cronico anzi al petto un peso qua per l'ansia una cosa incredibile nessuno riusciva ad aiutarmi eppure avevo girato miliardi di personaggi famosi e non di disciplina alternativa e crescita personale eccetera eccetera che più ne ha più ne mette senza nulla ottenere in cambio e soltanto quest'arte e questa scienza mi ha liberato dalle catene oggi sono una persona libera sono credo equilibrato e mi ipnotizzo h24 l'unico caso al mondo da più di 12 anni anche adesso sono ipnotizzato anche se non sembra ok adesso direi è fuso no non sono fuso un essere umano normalissimo fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.ipronologiassociati.com la mia fanpage ipronosi è il dottor Claudio Saracino il mio sito internet il mio canale youtube benessere ipronosi è il dottor Claudio Saracino e seguimi anche su instagram e twitter un bacio un abbraccio e alla prossima ciao grazie